Alle sette e mezza di lunedì 2 ottobre 38 passeggeri da Crotone a bordo del primo volo per Roma con compagnia Sky Alps che tornerà di sera alle 19 per ben tre anni. Dopo otto anni ritorna quindi il volo dai per la capitale e il volo è gestito dalla compagnia Sky Alps. Non escludiamo nulla, siamo in forte espansione. Dopo otto anni ritorna il volo dai per la capitale volando anche nei giorni festivi. Una bellissima tratta che mancava da tanti anni e la Sky Alps farà un servizio molto buono anche all'interno da bere, da mangiare, tutto gratis e vogliamo dire che questi aerei nostri da Asciotto sono molto ecologici e siamo molto fieri di questo. Sì, noi siamo cresciuti due anni fa, siamo una compagnia molto giovane. Attualmente abbiamo sei aerei, per l'anno prossimo avremo poi 14 aerei, siamo in forte crescita. Siamo una società di famiglia e siamo contenti con l'andamento del mercato. Crotone lo conoscevo solo sulla pianta, serve a tanto e forse faremo anche altri voli dal sud a Roma e anche su destinazioni turistiche. Abbiamo visto che abbiamo già venduto parecchi biglietti, siamo fiduciosi che sarà ben usata la nostra linea. Altri obiettivi dell'aeroporto di Crotone, di questo scalo, quali sono? Sì, poi vediamo cosa possiamo fare su Reggio Calabria, noi siamo disponibili a fare altre ruote. Non è solo la nostra attenzione, Crotone è un impegno che abbiamo assunto nell'ambito appunto dello sviluppo di tutto il sistema. È un impegno che è stato onorato in primis dal Ministro dei Trasporti che ha consentito l'avvio della conferenza di servizi dando mandato all'Enac che è la cosa più importante che vorrei sottolineare, che ci ha aiutato moltissimo nella pubblicazione di questa gara, nel seguire tutte le fasi, quindi un grande senso di riconoscenza nei confronti dell'Enac e del Presidente della Regione che ha convocato una conferenza di servizi alla quale hanno partecipato il Presidente della provincia, il Sindaco di Crotone, il Sindaco dell'Isola di Caporizzuto individuando quella che è la tratta per questo bacino di traffico più utile per consentire in maniera non stagionale perché il messaggio più forte è quello che sarà un collegamento che durerà tre anni più uno, mattina e sera, per Roma. Ma la preziosità di questo momento non è tanto questa ma è quella di avere una compagnia importante, seria una compagnia che crede nella qualità, una compagnia attenta all'ambiente che può su questo scalo innestare anche nuovi collegamenti, creare anche nuove opportunità. Ma questo è qualcosa che vorrei dire, il territorio deve capire proprio l'opportunità enorme che ha in questo momento insomma, un momento nel quale tutto il sistema deve contribuire allo sviluppo di quest'area che per quanto riguarda la qualità della vita non mi pare che sia i primi posti in Italia. Quindi è un primo seme che mettiamo, che però tutti quanti insieme dobbiamo riuscire a sviluppare ma perché è un territorio che ha enormi potenzialità e che deve assolutamente produrre dei risultati.